È improbabile che Thomas Markle ottenga i diritti di visita per vedere i suoi nipoti. Archie e Lilibet, ha detto un avvocato di celebrità. La scorsa settimana, il direttore delle luci e direttore della fotografia della televisione americana in pensione ha promesso di portare Meghan Markle e il principe Harry in tribunale per incontrare i suoi nipoti. Il 77enne, che non vede sua figlia da più di sei anni, ha bollato il duca e la duchessa del Sussex come cattivi genitori e ha affermato di aver commesso errori nel crescere Archie e la neonata Lilibet. Tuttavia, l'avvocato divorzista delle celebrità Mark Gross ha detto a Us Weekly che il caso di Markle è debole e difficilmente avrà successo. Citando un caso precedente, Gross ha spiegato che un giudice aveva stabilito una relazione sostanziale tra il nonno e i bambini, e, deve essere nel migliore interesse dei bambini avere una relazione con il nonno. In relazione alla situazione attuale del signor Markle, l'avvocato delle celebrità ha affermato che senza alcuna relazione stabilita tra il signor Markle e i suoi nipoti, non c'è percorso che un tribunale gli avrebbe dato per la visita. punto. Ha aggiunto. Dato che il signor Markle è andato in televisione e ha rilasciato interviste con le sue intenzioni di cercare visite, beh, questo certamente non è nemmeno nel migliore interesse dei bambini. Qualsiasi giudice lo guarderà e avrà motivo di preoccuparsi. Se fosse mio cliente, gli consiglierei di non rilasciare interviste, punto. È solo egoistico. punto. Meghan ha sopportato una relazione molto tesa con suo padre da prima del suo matrimonio con il principe Harry nel 2018. La relazione ha iniziato a deteriorarsi dopo che il signor Markle si è messo in contatto con i paparazzi per allestire fotografie di se stesso per la stampa. Durante l'intervista della coppia con Oprah Winfrey a marzo, Meghan ha rivelato che suo padre l'aveva tradita e che trovava difficile riconciliarsi con lui. Annunciando la sua intenzione di portare la questione delle visite in tribunale, Markle ha dichiarato. Non dovremmo punire. Lily, per il cattivo comportamento di Meghan e Harry.